Ora noi ci troviamo sulla piana di Gioia Tauro. Se voi andate a vedere dove c'è il ghetto della Tendopoli, dove vivono questi migranti africani la maggior parte, perché molti altri vivono nei casolari abbandonati, dove piove dentro e dove queste persone sono con l'infradito e le magliette. Quindi una vita non dignitosa e non degna di paesi civili assolutamente, perché è inammissibile che uno non abbia una doccia per lavarsi dopo una giornata di lavoro, con un lavoro pesante come la racconta degli agrumi, e che non abbia la luce elettrica. E' del tutto inammissibile, però questo è, nel senso che qui a Rosarno, come in tutti gli altri concentramenti, dove si sviluppa o viene fatta sviluppare a bella posta la cosiddetta guerra tra poveri, e così vengono creati gli agglomerati fuori dalle città, perché dentro le città queste persone, secondo il populismo che va di moda, danno fastidio. Bene, SOS Rosarno nasce all'indomani della cosiddetta rivolta di Rosarno. Come tutti sappiamo, nel 2010 è successo qui una rivolta da parte di migranti africani, che si sono ribellati a ennesimi soprusi da parte della popolazione locale, attacchi anche violenti con armi ad aria compressa, eccetera. Ma sappiamo tutti, insomma, quello che è successo. Il progetto SOS Rosarno appunto si voleva rivolgere ai gruppi di acquisto solidale, a tutte le realtà che lottano per la difesa del proprio territorio, ma economicamente diciamo che si rivolgeva soprattutto a questi gruppi di acquisto, si rivolgeva e si rivolge a questi gruppi di acquisto solidale. E come diciamo sempre, abbiamo cercato di mettere insieme i deboli con i deboli. I deboli piccoli proprietari che non riescono a farcela con la vendita degli agrumi, perché il prezzo, come sappiamo, è imposto dalla grande distribuzione organizzata. Se voi fate conto che ora, in questo momento storico, 2016, un chilo di arance viene venduto sugli 8 centesimi, allora veniva venduto anche a 5-6 centesimi, era una cosa impossibile che il piccolo contadino, il piccolo produttore potesse farcela con questi prezzi. E questi prezzi sono imposti, come sappiamo, dalla grande distribuzione organizzata. Per cui noi abbiamo detto, veniamo di poter mettere assieme dei piccoli produttori e dei braccianti. Noi abbiamo messo anche sul sito internet il cosiddetto prezzo trasparente. Il prezzo viene scomposto e viene detto chiaramente ai cittadini che 15 centesimi, ad esempio, sono per il trasporto. Altrettanti, ad esempio, per la raccolta. Adesso ho dei numeri che non sono precisi, ma se si va sul sito internet www.srosarno.org ci sono i prezzi precisamente scomposti. E poi c'è una piccola quota di solidarietà o quota alternativa, come vogliamo chiamarla, che noi ogni anno destiniamo a qualche entità che ci pare vicina alle nostre battaglie e alle nostre idee politiche. Da due anni a questa parte, ad esempio, questa piccola quota di solidarietà l'abbiamo destinata al Rojava in Kurdistan. E quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo mandato in cinque città italiane cinque tonnellate di agrumi. Questi agrumi sono stati venduti dai gruppi di acquisto solidale, nostri amici, e il ricavato di questi agrumi, circa 3.800 euro, è andato appunto alla città di Cobano. Il primo anno, quando siamo nati, abbiamo mandato degli agrumi alla Val di Susa, perché ci sembrava che la battaglia Notav fosse anche una nostra battaglia. ed è assurdo il fatto che vengano fatte queste grandi opere che sono inutili.